C'è a tutti ragazzi venuti in questo nuovo video in comprensione di CharlieMoo Gio a tutti ragazzi Allora ragazzi oggi siamo i sky wars Quindi ci vediamo subito in gioco Ciao 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 Ok è iniziata Ci siamo Se succedeva era una brutta cosa Il mio personaggio si faceva veramente male E perdeva la sua virginità Si In un mondo molto brutto Comunque io come al solito Roba in diamante E adesso Dato che Ma lo sai che possiamo shoppare O che ci penso Ah si come si shoppà Lash shop Wow Lash shop Ma i simili prendo un ender pearl Aspetta E quanti soldi ho Non so quanti soldi ho Mi prendo un ender pearl Oh le ho prese Eh Perché sento qualcosa che sta costruendo su di me Aiuto Perché forse qualcosa si sta costruendo su di te Si Ma io ne ho due che stanno arrivando No 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 Per favore Non mi faremo Grazie Ok Perfetto Allora Sto facendo team con uno qua Questo qui vuole venire da me Mi vuole picchiare Aiuto charlie Sbrigati a venire da me Ok 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 Ci sono un attimo Ma io l'ho fatto così Scusa Ciao Cioè scusa Dove sei? Eh sono qua insieme Ho un tizio o una tizia Non lo so perché si chiama Camilla Che ti mangia a scrivere una femmina Ok 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 Quindi non lo so Allora aspetta Un tipo tipa Esatto Vabbè Non so come definirlo Ok c'è un tipo che sta arrivando da me Ok No mi ha ammazzato No charlie no Aspetta Allora Sono morta Vinci per me Si si Allora aspetta Dove vedere dove era però In andando scusa Con l'hander per il fatto al centro Non ci credo Aspetta Sei morto No Ok ma so perché Ti può dare la lava Perfetto Ah no no Vaffanculo Ma ho buttato No Che mi scrivono Mi spammano ciao in chat Non lo so Ok Non si rompiva il vetro Eh infatti Ok Ho la spada in diamante Di nuovo Comunque adesso raga Vi dico un piccolo segreto di charlie Allora Voi sapete che Lei è fortissima Di sky wars Molto Questo perché Lei deve Per registrare Deve essere sempre a suo auge Ho capito E per fare ciò Lei registra da nuda Cosa Non lo so Perché No adesso però scriverò nel titolo Che charlie registra da nuda E quindi prenderò un sacco di like È diviso Sì È diviso Soprattutto charlie Hashtag charlie nuda Poi mi passi una tua foto Mi raccomando Mettere da copertina Sì sì Te la passo No no Lo farò Vedrai che foto Metterò Allora Dovevo cercare Charlie moon sei vera No sono fake No Sono Sono una torta Sono una torta Ma quel tipo di Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo anch'io Ma c'è qualcuno Dietro Dietro di te No No Dai per farlo Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Non 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 faceva Non morire Squadra di diamante Eh chi è culo Guarda Questo qui Camillo C'è la skin Da femmina C'è qualche problema Mentale Oddio Stavo per morire In modo Malissimo No Camillo No Sei morto Perché Come hai fatto Come hai fatto Mi vuole fare team Non mi sono fidato E quindi No Ma come Gold 96 Charly San Gold 96 Allora Aspetta Andando a mangiarci subito Una mela d'oro Ok Ma tu Non so dove sono le cesti In questo posto Manco io Le prime volte faccio Tipo sta mappa Infatti So già che morirò Tipo Tipo Sento un cane Sì I miei cani adorano Abbagliare mentre registro Per tutto il tempo Non abbaiano Appena inizia a registrare Scende Gesù Che li fa abbagliare Colpa di Gesù Che Che cattivo Oh aspetta Trovata ceste Perfetto Sono nascosta Nel peggio modo Sì infatti Quanti ce ne sono Quante ce ne sono Io ne trovo De tre Non era una trap Ceste Che cosa ho attivato Ho paura adesso No Via via Don't more please Dove era l'altra Aspetta Se riesco a buttarlo giù Con una sfizia No Ok scherzavo Scusa Non lo faccio più Ciao Eccola l'altra Perfetto Sono leggermente Protetto Adesso Ok Palle di neve Perfetto Prendo anche Non so No Merda No È caduta No Charlie Non sono caduta Ma un tipo mi ha fatto Segno di team E poi mi ha colpito Però mi è riuscito a ucciderlo Che farlocco Aspetta Ti è un farlocone Aspetta Io mi vendico subito con questo Così anche se non c'entra nulla Poveretto Cos'hai fatto Non lo so Aspetta Ammazzare un attimo Ok L'ammazzo Vieni qua Ciao amico Però come ti fa Ora Cosa stai facendo? Sto ammazzando uno E ce l'hai fatta? No Aspetta È scoppiato Ah no Perché c'è l'altro? Come è scoppiato? Non lo so Morto Morto Di morto? No Perché? Non lo so I will miss you forever Ok eccoci ragazzi Pam Ok siamo Nel In compaglia di Stepney Sì Allora Io c'è quello che Vado di qua Cado No Ok Allora sai che In alcune isole C'è la gesta Nascosta sotto gravel E tutto Sì sì È proprio Io non c'ho Cose per rompere Quindi non saprei Vabbè Non mi interessa più di tanto No a me non c'è la C'è la stufa Perché sono sempre così Spiegata Siamo vicini Sì Quindi non facciamo I'm happy for you No sono tardo Ok Perfetto È fatto Ho piazzato il blocco di ghiaccio Rompendolo Poi con la mano Non mi ho dato l'acqua No Aspetta Aspetta forse faccio cadere uno Sì sì Cadi Non si sa se è caduto Lo aspettiamo No non è caduto Ok Ottimo Più forte questo metto O questo qua Oh ciao amico È caduto davanti a me No Lì c'è un Caterpie Un Kulterp Eh sì ma Mettiamoci i bici Gronna a beccarmi Stronzi Aspetta Charlie help Che come Come mi muovo Perché vedo tutto nero Non lo so Devo togliere le Le nuvole mi sa Video settings Cloud Aspetta 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 Ok Io sto salendo Non so Aspetta questo tipo Questo tipo vuole morire Sì vero aspetta Forse lo Madonna che culo Come cazzo ha fatto Non lo so Ma sto venendo verso di te adesso Charlie Aspetta Se mi beccano Ok attento Mi ballano dal paradiso Se mi beccano Allora Sperma Sì Gesù Gesù dall'alto che fa Fermo Ban The burn hammer Has spoken Ok eccomi Ciao Un è caduto È caduto anche l'altro Ciao tipo Aspetta Guarda delle uova Sprova a beccarmi Ah ho preso Sì però non cadrà mai Perché ci sono tutti i blocchi Ah ma sei rimasti Io Te e lui Ah Abbiamo già vinto Wow Stiamo proprio pro Aspetta 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 Intanto mi mangio io una mela ad oro Ok Non mi prenderai mai Brutta Merda Cadi Ciao È caduto Sì Davvero Non giù giù Però l'ho fatto cadere No Che culo Ti sei messo davanti Aspetta 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 Attacca Dostruisco una piattaforma sicura Per poter non cadere Guarda Attento Dietro di te Oddio Ok mi sono salvato Perfetto Aspetta Aspetta Charlie Aspetta No sta salendo Sta salendo Ci vuole fare un Cosa dall'alto Un attacco aereo Vai Prendilo 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 Attento Attento Ci sta per buttare No Non ha senso che Zì non ha senso che fai sta cosa Cioè Eh sì sì Ciao Ah è morto Non esce su giù Aspetta Vieni qua Ciao È caduto È caduto Sì No 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 C'è risultato C'è risultato Perché Eh volevo darti il 5 Perfetto l'ho dato troppo forte Sì 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 E quindi ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Vi ricordi di passare Dal canale di Charlie Che trovate in descrizione E di mettere un pollice in su Se appunto il video vi è piaciuto No ci vediamo Al prossimo video Oh sì Che cos'era vorrei Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao Mi fai favore Qualche volta tu Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti